Marta, cara, va a entrare il prossimo, è l'ultimo, perfetto, è un po' tardi e poi neanche il nome, ok, grazie Salve, piacere, sono la dottoressa Chiara, oggi lei avrà notato una vista agli occhi e se non sbaglio è la prima che fa quindi deduco che lei non abbia mai avuto problemi agli occhi, ok Allora, un attimo, ok Allora, quindi le devo chiedere per prima cosa se lei è una persona che la accompagna perché le metterò delle gozze che la faranno vedere un po' male alla fine Ok, ho delle domande che comunque le devo fare anche se penso che sono tutte più o meno negative e comunque non troppo utili perché lei, secondo me, ha la mia età e non ha mai indossato gli occhiali Allora, giusto, non ha mai indossato gli occhiali e lenti, niente, neanche da riposo Perfetto Perfetto I suoi parenti hanno problemi alla vista? Oppia? Astigmatismo? Qualcuno dal torno? Niente, ok Lei adesso ha più dei problemi a vedere da vicino o da lontano? Ok, da lontano Posso chiederle se usa molto il cellulare, il computer, ma soprattutto il cellulare? No Guardi, non so quanti ragazzi anche, proprio adolescenti, ho avuto che hanno un problema a vedere da lontano per colpa del cellulare perché stando sempre al cellulare così a te caso, dopo guardano, li vedono tutto sfogato e fa ruminare veramente tanto la vista a lungo andare Quindi ci stia attento e nel caso attivi la luce gialla Ok, quindi Mi ho detto che posso Guardi il cellulare Guardi il mio di preciso E sa se riuscirà a ridurlo E questo E questo si può pensare anche a lenti che aiutino insomma a guardare lo schermo senza rovinarsi la vista Ok, poi Soffre di prurito O bruciolo ultimamente in zona E soffre anche di mal di testa Ok Me lo descrivo un pochino A parte da qui, arriva qui Dov'è? Ok Beh, giustamente Ok Ok, allora Per prima cosa indosso i guanti Mi piacciono? Mi piacciono? Dillo E vado prima di tutto a osservarle gli occhi A testarle intorno Allora E dopo andò un attimo anche a sentire i suoi muscoli Ok? Ok Posso avvicinare un secondo? Grazie Ok, allora Ora D'acqua Un po' di svegliere Un po' di svegliere Ok E quindi Quindi vedo che il mal di testa parte da qui Ok Va su Così Ok Ok Allora Adesso andrò A controllare i muscoli Dei suoi occhi Quindi per prima cosa io le chiedo di Chiudere 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 Gli occhi Io cercherò Delicatamente ovviamente Di riaprirli Ok? Non me lo prometto Ok? Tutto gli occhi Ok? Non me li faccio riaprire Resista 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 Ok Ancora un pochino Ancora L'altro occhio L'altro occhio Ancora un pochino Un pochino Farò in modo che si riesca Ok Perfetto Ora apro gli occhi Ok E adesso cercherò Di tenere aperti E cercherò Di Chiuderli Ok? D'accordo Allora Non era poco Sarò Molto delicato Ovviamente Ok? Ok 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 Mi faccio male? Sto facendo fatica? Ok Ok Perfetto Ancora un attimo Un attimino Un attimino Ok Perfetto Mi sembra tutto a posto Ok Prima di passare alla visione periferica Vogliamo un attimo controllare I suoi occhi Per vedere se c'è Del giallo Del rosso Che Non dovrebbe esserci Che prepondera Insomma Più del normale Ok Quindi Chiudo l'altro E le abbasso L'occhio Potrebbe dargli rendere fastidio Spero di no Guarda la mia torcia La controllare Ok Qua sotto E Un po' Chiudere L'altro occhio Ok Sono leggermente rasse Però mi ha detto che Le bruciano ultimamente Quindi direi che è normale Mi ha detto che è anche prurito Ok Le se le sta sfregando ultimamente Stanchezza si Ma sa cosa è anche il fatto che Utilizzando l'aria condizionata in questo periodo Si seccano tantissimo gli occhi Che viene ancora più riuscito E' ancora più bruciore E' tutto proprio Un cane che si morde la coda Purtroppo Ok Allora Adesso Le controllo La visione Periferica Quindi Appoggio un attimo via la mia torcia E le chiedo di Guardare sul mio naso Esattamente qui E io Le chiedo anche di Dirmi Quando le mie dita Escono fuori dalla sua visione D'accordo? Perfetto Ok 3 2 1 Guarda il mio naso Ok Il mio naso Ok Ancora Ok Un'altra volta Perfetto Adesso facciamo il contrario Mi devi dire quando Entrano Nella sua visione Ok Quindi Ok Perfetto Un'altra volta Perfetto Ancora Perfetto Un'altra volta di qua che devo ricontrollare Ok Ok Fantastico Fantastico Adesso le chiedo di Un'occhio alla volta Seguire La luce D'accordo? Partiamo Ok Ok Cerchi di Seguire la luce Con Lo sguardo Con Lo sguardo Si Può essere rilassante In qualche pozzetto Sono contenta Sono contenta Che le stia piaciendo Ok Altro occhio Seguo bene Certo Certo Perfetto 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 Ok 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 Ora è arrivato il famoso momento dell'ottotipo l'ottotipo è questa semplice carta qui e lei un occhio alla volta mi dovrà dire la lettera d'accordo? chiudo un occhio perfetto e cominciamo e f b d o dritto l v v ok ci siamo proviamo ad andare un po' più a fondo e d f g set e f e ok 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 andiamo la lega ancora più in basso questa lettera mhm t esatto ok 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 e andiamo poi qui ok no 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 allora no non si preoccupa no nulla di gravissimo adesso adesso le chiedo di fare la stessa cosa con l'altro occhio ok chiudo l'altro occhio e di nuovo ripartiamo da qui direi che va bene ok ok l b e d u questo mhm ok f b z e ok l l z qui h d d no 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 niente allora li apri tutti gli occhi ok adesso prima facciamo altri test e poi proviamo le lenti e guardiamo com'è lo vedi dopo ok ok allora ora ti fanno dei test abbastanza banali che possono essere fatti anche a casa il primo è concentrati sul puntino nero ok guarda il puntino nero devi verificare che le altre linee non ti sembrino storte osserva pure dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno ok 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 questo era per la retina ok 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 questo aveva fatto un occhio per volta le risulta che qualche linea sia più corta, più lunga, leggermente spostata che non sia tutto perfettamente asimmetrico l'altro occhio già vicino lo servi bene? mi dica se no da qualcosa, qualsiasi cosa che un piccolo particolare 3, 2, 1 perfetto, adesso questo ultimo era per l'astigmatismo e l'ultimo che le faccio fare è quello per i colori per verificare se c'è anche una minipossibilità che lei possa essere dal tonico ok, allora un occhio alla volta mi dica cosa vede sulla prima fila ok 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 va bene chiudo l'altro occhio e mi dica se legge qualcosa nella seconda fila ok 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 perfetto perfetto tutto tutto a posto per fortuna me lo segno un secondo abbiamo quasi fatto adesso adesso le andrò a mettere degli occhiali vuoti e poi le andrò a inserire delle lenti e lei mi dovrà dire come vedrà e l'ottotipo ok ripetiamo le lettere che ho sbagliato prima d'accordo ok ok e poi con l'occhio proviamo ok come va? come vede? ok come vede? ok questo è l'ultima fila F F F F G E E ok perfetto ok ok passiamo all'altro occhio d'accordo ecco qua vediamo sempre se sta lente per ora ok ok proviamo a leggere la penultima rita ok ok no è sicuro? ok 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 allora andiamo con tuttutututu questa qui leggiamo la penultima ok e l'ultima la quarta la quarta quinto quinto settito una o perfetto prendo il secondo appunti così dopo le faccio la prescrizione ok io dopo gliela scrivo e le arriverà per mail D'accordo, non si preoccupi nulla di risolvibile assolutamente Tu riposare prevalentemente delle lenti da riposo, gli occhiali da riposo Quindi no, niente di lenti a contatto, non glielo consiglio Ok, adesso ultimo step della nostra vista E poi può andare Allora, le ho chiesto se c'era qualcuno ad accompagnarla perché Le devo mettere alcune gozze Che mi permetteranno di postergarle il fondo oculare E le affuscheranno la vista per circa mezz'ora o un'ora Dipende dalla persona Se lei non l'ha mai preso probabilmente sarà un'ora Sì, potrebbe darle leggermente fastidio No, non si preoccupi No, non è doloroso No, no, assolutamente Può dare solo il pastiglio Quello sì E una E nell'altro occhio Ok, chiude gli occhi Ecco qua Come vi vede? Mi ha visto meglio Ok Adesso le chiedo di portare la pazienza Un attimo E vado ad osservare per bene Ok Ok Ok, le do fastidio? No? Perfetto Sì, sì Sì, sì È normale È normalissimo Non si preoccupi Abbiamo quasi finito D'accordo L'altro occhio Ecco qui Ecco un pochino Passo Siamo quasi Pesi che Meglio lo faccio ora Più tardi Lo potrò fare la prossima volta Ok Abbiamo un macchino L'ho meno invasivo Ma Se ci ho strotto ieri E costa tanto Quindi non so Quando riusciremo Aria Veno Secondo me Dopo l'estate D'accordo Ok, perfetto Adesso la porti lì Riusci a vederla? Ok Che le auguro una buona giornata Mi raccomando Si riposi Non vada a lavoro Oggi pomeriggio Ok E noi ci vediamo Se va tutto bene Fra un annetto D'accordo Arrivederci Arrivederci Grazie.